Trieste Espresso Expo 2018, siamo al Trieste Espresso Campus, ho il grande onore e piacere di introdurre un caffè esperto, Massimo Barnabà. Abbiamo qualcosa in comune, non solamente perché siamo triestini entrambi, amici, ma anche perché abbiamo una passione in comune e un lavoro in comune, ovvero sia quello di fare cultura e formazione sul caffè e sul caffè di qualità. Massimo Barnabà tratterà oggi un tema e avremo piacere di ascoltarlo inerente alla tostatura del caffè, uno dei passaggi fondamentali di quello che è la trasformazione del Kiko che dalla pianta nei paesi d'origine in qualche modo poi arriva alle tazzine che milioni, miliardi di persone in tutto il mondo bevono ogni giorno. Massimo, grazie per la tua presenza, ti lascio alla presentazione. Mi dico due parole su di me, mi presento, mi ha già detto qualcosa Andre, Massimo Barnabà, ho avuto la fortuna di lavorare per una decina d'anni in il caffè, nella ricerca e sviluppo e durante questo periodo ho avuto modo di affrontare diverse fasi del processo di trasformazione del caffè dal verde alla tazzina, inclusa anche la tostatura e quando Andre mi ha invitato chiedendomi di dire qualche parola sulle pratiche da mettere in atto per mantenere costante o mantenere la qualità del processo di tostatura ho cercato di condensare in pochi minuti quelle che sono le esperienze che ho maturato in il caffè prima e che sto maturando come freelance adesso presso altre aziende in Europa. Allora dirò due parole brevissime, cose che sapete tutti quanti ma magari meglio mettere alcuni punti cardine, per esempio su che cosa si intende per tostatura, è un processo che fondamentalmente prevede una prima fonte di calore che nel nostro caso sarà la macchina di tostatura e anche l'ambiente in cui avviene il processo stesso, un prodotto da tostare, siamo al Trieste Espresso Expo e quindi parliamo di caffè, potrebbe essere il cacao, i processi non sono molto dissimili e dopo ci sono delle maniere con cui il caffè viene riscaldato, con cui il calore passa dalla sorgente al prodotto, generalmente e possiamo in maniera così molto aspecifica parlare di tre vie principali per il passaggio del calore dalla macchina della macchina di tostatura al chicco e cioè la conduzione, la convenzione e l'irraggiamento e dopo le vedremo un attimo nel dettaglio meglio. Ci sono, e vorrei cominciare con dire che ci sono delle principali famiglie di cambiamenti che possono avvenire nel caffè durante la tostatura, oggi affronteremo alcune di esse, non tutte, principalmente dei cambiamenti nell'aspetto, dei cambiamenti fisici, anche i cambiamenti fisici poi hanno delle ripercussioni nell'aspetto, ma per aspetto poi vedremo nel dettaglio, parleremo di colore. E poi, come ho detto, dei cambiamenti fisici che riguardano soprattutto la struttura del chicco di caffè. Infine, sono quelli forse più importanti, sono i cambiamenti chimici che permettono di passare da un prodotto poco apprezzabile a noi esseri umani di adesso, quale il caffè verde, al caffè tostato che ci permette di preparare poi un domani un espresso, un caffè filtro e godere di una tazzina di caffè. Cominciamo a parlare della fonte di calore, della sorgente di calore dell'ambiente in cui avviene la tostatura, cioè della macchina di tostatura. Oggigiorno si tende a creare delle categorie, a cercare di mettere tutto quanto all'interno delle scatole, a mettere delle etichette e quindi anche le macchine di tostatura e i processi di tostatura stessi possono e vengono etichettati spesse volte con, potrebbe essere nel caso di macchine di caffè, macchine elettriche o a gas, batch piccoli, batch grandi, macchine continue, macchine a batch. Ci sono veramente alte temperature, corti tempi di tostatura, basse temperature, lunghi tempi di tostatura. Quasi che ci fossero delle caselle ben definite che delimitano un processo e l'altro e che quello che si fa in una casella non possa essere fatto parzialmente o riprodotto anche in un'altra. Ecco, ciò non è proprio del tutto vero. Il più delle volte i confini sono molto labili, certe volte ci sono degli overlapping tra una casella e l'altra, per cui io mi sono permesso di trovare alcune classificazioni abbastanza chiare che possono essere poi anche utili nel corso della presentazione e che ci guidano un po' attraverso diversi processi di tostatura. Una prima classificazione potrebbe essere fatta sulla base del tipo di flusso che ha il prodotto all'interno del processo di tostatura e cioè, in maniera molto netta, i processi a batch da processi continui. I processi continui sono sostanzialmente processi in cui continuamente vi è all'interno dell'ambiente in cui si tosta un ingresso e un'uscita di caffè, ingresso di caffè verde e uscita di caffè tostato. Nel processo a batch, per esempio le macchine che abbiamo qui presenti in questo stand sono macchine a batch, entra ad un certo punto, in un certo momento entra il caffè verde, bisogna attendere un certo periodo di tempo ed esce il caffè tostato. Questo non è un processo quindi in cui continuamente si ha un flusso di prodotto. Credo che come definizione sia abbastanza chiara e non lasci adito ad interpretazioni o dubbi. Siccome le macchine di tostatura continue sono meno diffuse, mi sono permesso di riportare alcuni schemi giusto per vederli insieme a voi, soprattutto questo è uno schema che rende bene l'idea. Qui sopra c'è il bruciatore, quindi la fonte sostanzialmente di aria calda. L'aria calda viene messa e immessa nel cilindro di tostatura dalla parte in cui esce il caffè tostato in modo da avere un flusso controcorrente. Il caffè quando è già caldo viene ulteriormente riscaldato dall'aria alla temperatura più elevata in cui si trova in questo processo. Poi andando in questo senso per l'aria e in questo senso per il caffè abbiamo un riscaldamento del caffè e un raffreddamento dell'aria. Il caffè verde viene caricato in questo punto e compie questo processo all'interno di questo cilindro di tostatura. Tutto questo avviene continuamente, quindi in maniera continua ho una immissione di caffè verde da delle tramogge e un'uscita di caffè tostato che viene poi raffreddato, questo deve essere un raffreddamento del caffè e poi scaricato nei sili e quindi segue il normale flusso del prodotto. Questa macchina così come tante altre macchine prevede oggigiorno un parziale ricircolo dei gas in uscita dal tamburo di tostatura per recupero energetico e quindi una migliore efficienza di tutto il sistema. Sono macchine che non si trovano molto molto spesso nelle industrie però valeva la pena anche soffermarci un attimo su questo genere di possibilità. Possiamo avere un altro tipo di classificazione, di suddivisione tra le macchine tostatrici sulle base del principio con cui vengono movimentati i chicchi. Fondamentalmente possiamo avere un'agitazione, un miscelamento meccanico dei chicchi all'interno dell'ambiente in cui vengono tostati e sono di nuovo le macchine che vediamo in questo stand quindi un cilindro con delle palette che rimessano il caffè. Questi sono, diciamo, generalmente possono essere o una specie di grandi pentoloni oppure molto più comunemente dei cilindri in cui il caffè viene mantenuto in agitazione. D'altra parte abbiamo invece le macchine di tostatura, i tostatrici a letto fluido. In questo caso non ci sono elementi meccanici a contatto con il caffè ma il caffè viene mantenuto in una specie di stato in continua ebollizione da un flusso di aria calda che investe il caffè da sotto e quindi provoca, il caffè viene in pratica sparato in aria e si creano dei vortici che fanno sì che il caffè caldo ricada sopra e il caffè che invece stava sulle pareti venga poi riscaldato e si crea questo effetto, questo moto estremamente turbolento di aria calda che investe il caffè e il caffè in questa maniera viene continuamente rimestato e riscaldato. Sono due metodi di movimentazione del caffè diverso e dopo vedremo anche utilizzano diversi principi per la trasmissione del calore dall'aria al caffè perché in questo caso nelle macchine tradizionali tamburo possiamo avere una trasmissione del calore per conduzione, convezione e un po' irraggiamento mentre in questo genere di macchine abbiamo fondamentalmente una convezione quindi un riscaldamento per convezione del caffè. Ho anticipato quello che avrei detto qua e cioè che ci sono tre principali metodi con cui il calore passa dall'ambiente circostante, dalla macchina di tostatura al caffè e cioè la conduzione, la convezione e l'irraggiamento. È molto più facile vedere questa immagine che immaginare il caffè all'interno di un tamburo che gira ma immaginiamoci noi davanti ad un caminetto o con le mani sopra un caminetto magari non troppo vicino, quando stiamo davanti il calore che noi percepiamo è un calore che ci proviene per irraggiamento se invece proviamo a toccare con un ferro le braci o il legno che sta bruciando e il ferro diventa caldo, il calore che noi percepiamo è un calore che ci viene dato per conduzione cioè siamo in contatto con il mezzo che ci riscalda la convezione invece è dovuta all'aria calda che per differenza di densità rispetto all'aria fredda dell'ambiente circostante sale e investe in maniera dinamica la nostra mano che sta al di sopra del fuoco ecco che questa specie di riscaldamento con un movimento di aria viene detto convezione ed è molto più efficace per esempio dell'aria calda che ci investe quando essa è ferma è una sorta di effetto phone che succede quando noi cambiamo la velocità dell'asciugacapelli io ormai non lo uso molto, ma vedo che sono in buona compagnia quando si varia la velocità dell'asciugacapelli cambia la capacità di asciugare più veloce è la ventola più si asciuga velocemente ecco questo qua succede semplicemente perché ai capelli e così la stessa cosa al caffè durante la tostatura viene trasmessa una quantità maggiore di calore per convezione ho voluto qui rappresentare una macchina un impianto diciamo semi industriale semi industriale di tostatura di caffè che utilizza un principio di movimentazione meccanica del caffè all'interno del tamburo di tostatura che utilizza soprattutto i principi di conduzione e convezione e che prevede in maniera molto semplice un'immissione di caffè dalla tramoggia tutte queste cose qua si possono vedere poi in quella macchina piccola che è in questo stand sostanzialmente ha il 90% dei pezzi che ci sono in questo impianto quindi una tramoggia di carico in cui viene alimentata a batch una certa quantità di caffè un ambiente il tamburo di tostatura in cui il caffè rimane per un determinato periodo di tempo il caffè viene riscaldato dall'aria calda che viene riscaldata nel bruciatore l'aria compie solitamente un percorso come ha spiegato molto meglio di me prima il relatore della IMA e viene riscaldato all'interno di questo ambiente quindi il caffè si trova qua dentro viene riscaldato dall'aria calda proveniente dal bruciatore l'aria calda esce dall'ambiente di tostatura arriva in questo ciclone separatore che separa le eventuali pellicole presenti nello stream fluido dall'aria e abbiamo poi la possibilità anche in questo caso di ricircolare parte dell'aria calda che fuoriesce dal cilindro di tostatura per di nuovo ottimizzare il processo e renderlo più efficiente dal punto di vista di un bilancio energetico un'altra parte dell'aria viene poi destinata all'ambiente e solitamente ci sono dei post bruciatori che impediscono fuoriuscite di fumi nocive e diciamo rendono il tutto più amico dell'ambiente il caffè tostato una volta terminato il ciclo di tostatura viene raffreddato ci possono essere dei separatori per eventuali pietre o impurità presenti e una volta raffreddato viene poi inviato ai sili di stoccaggio o secondo il flusso che questo ha all'interno di quell'azienda ecco questo è in estrema sintesi un impianto di tostatura adesso arriva la parte un po' più per noi interessanti e cioè quello che succede al caffè durante scusate che là mi sento più libero quello che succede al caffè durante la tostatura come ho detto prima ci sono dei cambiamenti chimici, fisici, di colore, di grandezza possiamo immaginare il ciclo come una sorta di micro reattore in cui avvengono una miriade di reazioni chimiche di cui io non voglio parlarvi perché non sono la persona titolata per farlo mi soffermerò solo su alcuni macro aspetti che possono essere utili nel controllo di qualità e nel controllo del processo di tostatura stesso e cioè prima di tutto osserviamo che il ciclo di caffè cambia di colore ci sono diverse fasi di cambiamento di colore avvengono in maniera graduale non ci sono solo sei chicchi nel processo di tostatura ma ogni secondo ce n'è uno un po' diverso dall'altro per cui queste sono delle schematizzazioni molto forzate anche i tempi che qui vedete non vogliono dire nulla è semplicemente un'immagine che mi serviva per questa presentazione ma dimenticatevi dei tempi e dimenticatevi delle temperature dopo ve ne parlerò nel dettaglio quello che è interessante e che succede invece in tutti i processi di tostatura è che c'è una prima fase in cui noi dobbiamo fornire un'elevata quantità di energia al chicco perché ha bisogno di calore e di energia per far evaporare l'acqua presente e perché alcune reazioni avvengano quando il chicco invece comincia ad essere bello scuro il calore ci possiamo quasi dimenticare di esso possiamo quasi spegnere la macchina di tostatura perché le reazioni passano da endotermiche nella prima fase esotermiche nella seconda questo vuol dire che si bastano da sole sono sufficienti a se stesse per andare avanti e per rendere il caffè sempre più tostato attenzione quindi alla fase di raffreddamento che sempre accompagna alla fine di un processo di tostatura altrimenti le reazioni chimiche andrebbero avanti per conto loro quindi ci sono dei momenti in cui devo fornire calore e devo stare attento a come fornisco il calore momenti in cui devo rimuovere il calore e devo farlo in maniera efficiente altrimenti il caffè si tosta per conto suo avanti qui ho di nuovo voluto rappresentare una ipotetica curva di tostatura ormai ci sono software termocopie e sonde che permettono di avere delle immagini bellissime del processo di tostatura salvo che poi non ci dicono che gusto avrà e che sapore avrà il caffè alla fine però fondamentalmente è rappresentato quello che vi dicevo poco fa per fortuna qui non ci sono delle scale con dei numeri ma semplicemente viene descritto il tempo e la temperatura del chicco o dei chicchi di caffè che vengono tostati per cui abbiamo una generica temperatura di carica del caffè questa è la temperatura rilevata da una termocoppia che sta nella camera di combustione arriva il caffè il caffè a temperatura ambiente quindi la termocoppia il sensore di temperatura rileva un abbassamento di temperatura io sto fornendo calore continuamente comincia la fase esotermica in cui il caffè è freddo devo riscaldarlo devo aspettare che perda la sua umidità devo aspettare che le reazioni chimiche all'interno del chicco avvengano il colore comincia a cambiare si passa dal caffè da un verde anche brillante se il caffè è di ottima qualità giallo poi diventa un po' più dorato dopo non sono bravo sui colori sono delle schematizzazioni comunque insomma diventa sempre più scuro diventa sempre più scuro fino a che quando è di un colore giusto per renderci un'idea simile a questo potrebbe cominciare la fase esotermica per cui posso quasi dimenticarmi di riscaldare il cilindro di tostatura perché tanto ci pensa quasi il caffè ad andare avanti per conto suo e in un qualche punto in qualche momento mi decido e faccio diciamo do lo stop a questo processo e comincio a raffreddare il caffè questo è in buona sostanza un processo di tostatura cominciamo e l'abbiamo già fatta vedere prima a parlare di curva di tostatura una curva di tostatura è fondamentalmente un un diagramma in cui vengono rappresentati il tempo e la temperatura alla quale si trova il chicco di caffè in questo caso questa 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 non è una curva di tostatura era quella prima curva di tostatura questa qui è semplicemente un un diagramma che ci permette di vedere quello che quello che stavo dicendo prima cioè che quando vado avanti con il processo di tostatura quindi man mano che la tostatura avviene man mano che mi sposto lungo questa curva di tostatura avvengono un sacco di reazioni chimiche e di cambiamenti all'interno del chicco di caffè e questo per esempio si riflette in un aumento dell'amarezza della bevanda o del chicco stesso in una diminuzione dell'acidità in degli andamenti grosso modo parabolici del di corpo della bevanda e di aroma sia come quantità di aromi stessi presenti e che si possono estrarre dai chicchi quindi è importante decidere bene qual è il grado di tostatura poi per avere un caffè bilanciato secondo le nostre aspettative ecco qui cominciamo ad andare un po' più nel dettaglio su quali possono essere alcune curve di tostatura non sono o semplicemente raccolto alcuni esempi provenienti della letteratura scientifica per rappresentare i processi però se avessimo raccolto le curve che abbiamo fatto questa mattina avrebbero avuto degli andamenti non dissimili da questi qui vengono rappresentate due condizioni diverse che dicevo anche prima avevo fatto cenno a queste condizioni vengono rappresentati due tipi di tostatura diversi un tipo chiamato low temperature long time cioè tostature con aria relativamente calda che si protraggono a lungo nel tempo o invece processi molto veloci in cui per avere un certo grado di tostatura quindi per avere un chicco scuro tostato viene utilizzata aria molto calda per un periodo molto più breve di tempo ecco non ci sono dei paletti imprescindibili per dire questo è un processo veloce questo è un processo lungo io mi sono azzardato a mettere dei numeri tre minuti quattro minuti vogliono dire tempi corti quindi high temperature short time per avere un caffè tostato ovviamente se comincio ad andare verso gli otto dieci dodici quindici minuti ecco abbiamo delle tostature invece diciamo così chiamiamole tradizionali almeno per quanto riguarda gran parte dei tarifatori italiani ma li possiamo catalogare in low temperature long time cioè bassa temperatura lungo tempo ecco queste sono le tipiche curve di tostatura in realtà queste sono curve di laboratorio poi ne vedremo delle altre ci sono delle differenze macroscopiche tra processi condotti velocemente ad alta temperatura e processi condotti con aria molto calda per poco tempo queste ho cercato di riassumere di schematizzare alcune differenze per esempio la quantità di gas rilasciata dai chicchi la porosità del chicco alla fine il volume finale del chicco la densità dei chicchi dopo la tostatura che è l'opposto sostanzialmente del volume e il contenuto finale di umidità del chicco diciamo che se partiamo dallo stesso punto di partenza quindi dallo stesso caffè verde e arriviamo ad un caffè tostato del medesimo colore sostanzialmente le differenze tra alta temperatura corti tempi e bassa temperatura tempi lunghi si possono riassumere grossomodo in questo schema cioè un aumento un'aria molto calda che investe il caffè si traduce in una fase di evaporazione dell'acqua molto vigorosa molto intensa il chicco viene stressato di più ci sono dei momenti in cui le pareti cellulari diventano più plastiche e quindi possono essere modellate dall'espansione dei gas all'interno del caffè che si formano durante la tostatura e dall'acqua che evapora in questo caso il chicco quasi non fa in tempo ad adattarsi a diventare morbido per potersi ingrandire ma viene ingrandito in maniera molto repentina si creano delle fratture all'interno del chicco la porosità cioè i buchi all'interno del chicco stesso aumentano il volume è anche maggiore rispetto ad un processo condotto in maniera un po' più diciamo così tranquilla però è interessante vedere come anche l'umidità finale nel chicco è più elevata perché il chicco è una specie di è vero che ha una sua forma peculiare però se lo immaginiamo come una sfera l'acqua ha meno tempo ha meno possibilità di migrare e di uniformare la propria presenza dall'esterno che viene seccato in maniera molto veloce e brutale all'interno che invece non ha il tempo di rilasciare quindi l'umidità non ha il tempo di migrare e di uscire in maniera completa dal chicco per cui si crea un prodotto finale cioè il chicco di caffè tostato ad alta temperatura per breve tempo che al suo interno ha un gradiente di umidità qui ci sono giusto due grafici sono misure relative ad esperimenti in laboratorio e cioè vengono comparati allo stesso grado di tostatura due due processi e qui viene rappresentato il volume dei chicchi e si vede come nel processo condotto in maniera veloce ad alta temperatura il volume dei chicchi si è più elevato in comparazione ad un processo diciamo più tradizionale ho voluto fare un piccolo focus sui cambiamenti fisici indotti dalla tostatura nello specifico la struttura all'interno del chicco stesso perché è un lavoro che ho affrontato un po' di anni fa mentre con il team di ricerca e sviluppo di ili caffè mi scuso per questa immagine ma nel mio 13 pollici era molto meglio devo tener conto che si è un po' sgranata comunque ci sono avvengono delle espansioni del volume del chicco da verde a tostato come abbiamo detto e in una diciamo curva di tostatura tradizionale quindi a basso temperatura e a lungo tempo andando avanti con il tempo abbiamo un volume comparato al volume del chicco verde iniziale che ha grosso modo questo sviluppo cioè aumenta di volume soprattutto nelle prime fasi per poi nelle fasi finali di avere un diciamo essere quasi un po' più costante nelle sue dimensioni quindi abbiamo come dicevo prima una fase in cui le pareti cellulari e la struttura stessa del chicco è rigida vetrosa dopodiché con il riscaldamento se abbiamo e se diamo modo e tempo sufficiente alla struttura alla struttura per adeguarsi alle temperature e ai cambiamenti abbiamo invece una fase quasi gommosa quindi il chicco può avere delle deformazioni senza rompersi ecco che in un processo condotto in maniera tra virgolette tradizionale questo avviene e abbiamo il diciamo un'espansione delle pareti cellulari una creazione di pori all'interno del chicco stesso e poi un cambiamento di nuovo della resistenza e delle proprietà di sforzo di formazione del chicco che alla fine ritorna di nuovo vetroso quando il caffè viene raffreddato ecco che abbiamo un un ingrossamento del chicco che è dovuto appunto a questo gioco a questo equilibrio di forze tra l'acqua che evapora dei gas delle reazioni che producono gas soprattutto co2 e co ma soprattutto co2 e la capacità delle pareti cellulari di resistere oppure di deformarsi oppure ancora di rompersi sotto la spinta di questi sforzi queste qua sono delle immagini ottenute mediante microtomografia assiale computerizzata dall'università di foggia che aveva e ha tuttora in uso questi sofisticatissimi sistemi di raggi X che permettono di andare ad investigare l'interno del chicco senza romperlo ecco che è possibile ricostruire la struttura del chicco la struttura cellulare del chicco senza romperlo e quindi andare a vedere effettivamente cosa succede all'interno del chicco e a suo tempo avevamo sottoposto dei chicchi di caffè dal verde durante diverse fasi di tostatura a questo genere di indagine e abbiamo trovato dei risultati molto interessanti innanzitutto non solo il volume del chicco aumenta ci sono dei pori all'interno che aumentano di volume ci sono dei pori che si formano si formano delle fratture delle crepe per cui viene disgregata completamente la matrice iniziale e si passa ad una struttura da compatta a fragile no scusate sì pensavo di essere questo era il poster presentato ad una chic di un po' di anni fa e adesso vado a riassumervi un po' di informazioni provenienti da quel poster e le conclusioni cioè qui ci sono delle altre immagini che riassumono e che mostrano a diverse temperature cosa succede all'interno del chicco in diversi momenti della tostatura quindi dal verde al tostato si vede come le cavità le zone porose aumentino in maniera considerevole ecco qui noi avevamo trovato abbiamo cercato di misurare in maniera indiretta grazie a dei software la misura di volume del chicco il numero di pori e la densità del chicco stesso e anche il volume dei pori all'interno quindi quanto il chicco diventa una sorta di spugna alla fine tanto quanto invece era una struttura compatta all'inizio si vede come avevamo osservato era un tostino molto piccolo per cui i tempi di tostatura erano relativamente corti passando da 0 a 5 minuti il volume dei pori aumenta tantissimo all'interno del chicco di caffè aumenta il numero di pori quindi si disgrega completamente la struttura iniziale e la densità del chicco in maniera quasi inversamente proporzionale diminuisce perché il chicco diventa più poroso contiene più aria al suo interno più gas più spazi vuoti diciamo così e perché anche diminuisce l'umidità presente quindi delle grandi e importanti modificazioni all'interno del chicco che ci permettono per esempio di macinare il caffè tostato quando non è possibile farlo con il caffè verde torniamo un passo indietro sulla curva tempo temperatura lo so avete bisogno di caffè ma dai cerchiamo di tenere dura ancora un po' la forma di questa curva è una cosa fondamentale l'abbiamo visto anche prima ci possono essere diversi metodi diversi percorsi per arrivare allo stesso punto finale partendo dallo stesso caffè verde addirittura nello stesso tempo arrivo alla stessa temperatura del caffè e anche a caffè con colori molto simili passando da questa curva diciamo centrale ad una curva invece con soft start o invece ad una curva con un avvio molto intenso per la cessione di calore abbiamo delle cinetiche di reazioni chimiche all'interno del chicco diverse e dei profili in tazza diversi quindi un prodotto diverso alla fine per questo motivo non è non è sufficiente tenere conto solamente di temperatura tempo e colore ma bisogna anche vedere come ci sono arrivato a quella temperatura in quel tempo e a quel colore per cui bisogna stare molto attenti nella conduzione del processo di tostatura stesso quindi attenzione non solamente tempo e temperatura ma seguire tutto il percorso e l'andamento vado avanti velocemente perché un problema che è emerso prima nella discussione con il progettista di quella macchina da caffè era appunto la misura della temperatura che sembra una cosa semplice sempre una cosa banale oggigiorno esistono termocoppie sistemi che permettono di avere letture tramite infrarossi generalmente le macchine di tostatura prevedono l'utilizzo di una termocoppia messa nell'ambiente di tostatura che sta a contatto con il caffè quando il caffè sta nella macchina e quello che noi leggiamo e quello che nei software viene chiamato di solito temperatura dei chicchi o temperatura del caffè altro non è che una temperatura di un insieme di cose tra cui aria calda che fluisce tra i diversi chicchi i chicchi che toccano continuamente la termocoppia che però non sono mai gli stessi quindi è una misura che ci serve a dare un'idea ma attenzione non è la temperatura reale dei chicchi di caffè è una stima non possiamo far di meglio no va bene teniamocela ma non pensiamo che quella sia una misura assoluta della temperatura del caffè perché così non è eccola qua la termocoppia termocoppia che per funzionare ha bisogno di due conduttori diversi e che hanno un punto di giunzione che di solito è la punta della termocoppia ci si crea quando questi conduttori sono sottoposti a uno sbalzo di temperatura una differenza di potenziale che viene letta da uno strumento e convertita fortunatamente in un numero che è molto più utile e a noi visibile vengono utilizzate soprattutto termocoppie invece che resistenze o termistori o lettori ad infrarossi perché le termocoppie hanno dei vantaggi che sono soprattutto economicissime quindi già questo si capisce perché vengono usate hanno però anche di buono un tempo di risposta molto veloce sappiamo che alla fine della tostatura pochi secondi o un paio di secondi possono fare la differenza e quindi è necessario avere immediatamente il polso della situazione coprono un ampio range di temperature per cui diciamo che 99 casi su 100 voi avrete a che fare con termocoppie quando leggete la temperatura del caffè durante una tostatura attenzione non è che le termocoppie sono bugiarde certe volte noi ci dimentichiamo che non sempre possono dire solo il vero ecco diciamo così ecco qua questi sono dei dati provenienti da un tostatore che ha messo due termocoppie una accanto all'altra quindi nella stessa macchina con lo stesso nello stesso batch di tostatura tutto quanto era uguale una termocoppia era di eccolo qua un millimetro e mezzo l'altra di tre millimetri come diametro della termocoppia ci sono termocoppie che anche più grandi cinque otto vedete come le temperature e le curve che hanno che dipingono queste due termocoppie sono completamente diverse passiamo attenzione non prendete paura sono in Fahrenheit le scale abbiamo dai cento cinquanta un po' di meno come temperatura minima centocinquanta gradi Fahrenheit all'interno del cilindro di tostatura letta della termocoppia da un millimetro e mezzo e centosettantotto letta dall'altra quindi attenzione non sono non è un sistema quello di leggere la temperatura che va bene in maniera acritica ricordatevi sempre che termocoppie diverse possono dare risultati diversi meglio averne sempre due in casa e confrontarle prima che una delle due si rompa perché altrimenti stiamo guidando una macchina con gli occhi chiusi e quindi non è molto salutare per noi e per la macchina il ROR è il rate of rise e cioè l'incremento la tangente la tangente a questa curva sì la derivata prima esatto la tangente alla curva cioè l'incremento di temperatura nel tempo quindi mi raccomando tenete sempre gli occhi aperti quindi parlando di termocoppie e di temperatura tenere gli occhi aperti vuol dire controllare periodicamente i sistemi di misura quando si offrono le termocoppie calibrate che costano di più può essere anche utile investire qualcosa in più nell'acquisto di un sistema di lettura che sia affidabile attenzione a fare dei check su diverse termocoppie che uno ha in casa perché quando devo sostituirle voglio sapere in anticipo che cosa andrò a leggere quando cambio macchina quando cambio macchina quando prendo una macchina più grande perché sono bravo a vendere il mio caffè non posso pensare di trasportare le curve tempo-temperatura che avevo nella macchina in un'altra ma neanche da due macchine da 60 kg non funziona così bisogna purtroppo tirare una riga e ricominciare da capo perché ogni macchina è un ambiente a sé stante per cui è difficile pensare di trasportare in maniera come dire contro il C contro il V non funziona quindi attenzione di star sempre attenti a quello che dice ai numeri che vediamo perché i numeri ci devono dare una mano ma siamo noi a decidere e non i numeri quindi abbiamo fatto 33 slide per concludere che la curva tempo-temperatura e la misura della temperatura fatta nelle migliori maniere possibili non ci dicono molto non ci dicono tutto quanto vorremmo sul prodotto finale quindi abbiamo bisogno anche di andare a misurare il colore di andare a vedere il colore dei chicchi quindi capire quando è il momento giusto di fermarsi dal chicco verde al chicco bruciato allora questo è un credo non so quanti ce ne siano in giro per il mondo ma tanti ma tanti non sta a me giudicare se siano buoni cattivi ma fatto sta che è un dato di fatto ce ne sono dobbiamo confrontarci con essi questo sistema è un sistema che permette di tostare circa 100 grammi di caffè alla volta abbiamo utilizzato per la valutazione di campioni di offerta di preimbarchi e quant'altro quindi piccolissime quantità di caffè la tostatura viene fatta con l'ausilio di questo piccolo termometro analogico che è posto sulla sommità e che posso tranquillamente senza tema dismentite dirvi che è inutile per cui la curva tempo-temperatura con questo termometro qua non serve a nulla dobbiamo affidarci in questo caso al colore all'udito sentendo il crack all'olfatto usando i fumi di tostatura però fondamentalmente dobbiamo usare il colore e la vista perché man mano che la tostatura avviene non possiamo aspettare che sia arrivata alla fine per vedere se il colore è quello giusto o no devo decidere io quando terminarla volta per volta quindi io devo tenere i miei occhi aperti sempre come prima e ricordare sempre però che il colore del caffè che vedo è la porzione di luce ambientale riflessa dal chicco di caffè quindi le condizioni in cui tosto il caffè sono fondamentali per rendermi conto in maniera corretta del colore di quel caffè non è vero che i giorni di bel tempo e i giorni di brutto tempo il caffè tosta diverso è vero se sono io che lo guardo aspettando di vedere la luce del sole che mi indica il colore è un giorno che c'è bel tempo ho una luce che ha un'intensità e un colore è uno spettro un giorno invece in cui ci sono molte nubi ho un altro colore dello stesso caffè perché la luce incidente è diversa quindi attenzione cerchiamo non è il massimo dal punto di vista dell'ambiente di lavoro ma di utilizzare delle lampadine piuttosto di affidarci sempre alla luce proveniente dall'esterno attenzione quando compriamo le lampadine di comprare sempre lo stesso tipo le lampadine hanno dei valori che indicano il colore della temperatura cioè il colore sostanzialmente delle luci che emettono quanto si avvicinano ad una luce naturale è l'intensità la capacità di illuminare la forza con cui illuminano quindi attenzione a controllare ad occhio il colore del caffè tra la mattina e la sera tra quando è chiaro fuori e quando è scuro come ho detto prima attenzione evitate la luce solare come principale fonte di luminosità quando valutate il colore del caffè e tenere magari vicino a sé un campione di caffè del colore giusto perché è più facile vedere le differenze che non valutare in termini assoluti il colore di un oggetto quindi cercate di tenere gli occhi aperti e seguire queste semplici regole base tuttavia ovviamente stiamo sempre parlando di una valutazione fatta ad occhio quindi soggetta a errori di valutazione enormi per cui per fortuna la tecnologia non si ferma il nostro che abbiamo fatto qualcosa forse di un po' più affidabile magari dopo potremmo discutere sull'affidabilità ma diciamo qualcosa che ci viene ci dà una mano ecco perché un giorno posso avere la congiuntivite e quindi magari non ci vedo bene oppure semplicemente uno diventa vecchio perde delle sensibilità allora un altro ecco volevo dire un altro oltre al fattore umano un altro punto debole di questo di questo di questo sistema è che la 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 capacità di campionare il caffè durante la tostatura non è un processo continuo la curva tempo temperatura è un processo continuo io avevo al secondo la temperatura del mio caffè o del caffè più aria in questo caso invece devo aspettare devo tirare fuori il campionatore vedere magari confrontare passano dei secondi per cui potrebbe già essere troppo tardi se sono vicino alla fine ecco qui cosa ha rimpiazzato l'occhio umano e certe volte uno verrebbe da dire madonna mi era meglio l'occhio umano però allora ci sono oramai disponibili una quantità abbastanza elevata di strumenti che permettono o dichiarano di valutare o di misurare il colore di un caffè tostato ci sono strumenti portatili strumenti economici strumenti estremamente costosi strumenti che fanno la stessa cosa e stanno in tasca strumenti che hanno bisogno di un banco per misurare il colore di un caffè quasi tutti però hanno delle caratteristiche in comune che adesso andiamo a visualizzare innanzitutto tutti quanti danno i numeri nel senso che tutti quanti danno un numero alla fine i numeri di uno strumento non sempre parlano con i numeri dell'altro quindi se tu hai lo strumento A e io lo strumento B il mio numero potrebbe non voler dire niente per te e viceversa anche la correlazione tra colore di caffè quindi tra scarto un colore chiaro un colore scuro la scala potrebbe essere completamente diversa tra una macchina e l'altra quindi non esiste ancora un sistema unico per valutare o una scala unica per valutare il colore del caffè o almeno utilizzata dagli strumenti commerciali succede che generalmente il caffè il colore del caffè viene valutato sul caffè macinato quindi io prendo il mio caffè alla fine della tostatura lascio che si raffreddi lo macino lo metto in qualche maniera lo faccio esaminare da queste macchine e aspetto il verdetto quindi così come avviene per la misura ad occhio il caffè viene investito da una luce e poi lo strumento legge la luce riflessa dal caffè macinato ecco che alla fine un numero rappresenta tutti i nostri sforzi nel creare il caffè con la giusta curva il giusto tempo temperatura abbasso il gas aumento ecco che alla fine tutto è sintetizzato in un numero 92 evviva intanto quando noi stiamo finisco sì finisco quando noi stiamo guardando il numero nella macchina o nel sistema di lettura è troppo tardi se abbiamo fatto qualcosa se abbiamo tostato troppo poco o troppo quel caffè ormai dobbiamo capire come gestire quella cotta di caffè che è andata male quindi attenzione la misura è fatta sempre alla fine del ciclo di tostatura quindi è utile come riscontro ma non è assolutamente utile per decidere quando stoppare non è possibile prendere il caffè e macinarlo mentre sta ancora tostando non serve a nulla e non si fa non ci dice nulla sul comportamento del caffè durante una tostata ed è un'altra cosa molto importante un valore medio tra una certa quantità di chicchi tostati posso avere lo stesso valore avendo chicchi verdi e chicchi tostati quasi chicchi molto chiari chicchi molto scuri o chicchi estremamente uniformi ed avere lo stesso colore lo stesso numero e questo anche ci deve far riflettere su quanto sia esprimibile una cotta da un unico valore da un unico numero quindi alcune raccomandazioni quando fate questo lavoro queste valgono per tutti questi tipi di strumenti macinare il caffè sempre allo stesso livello di macinazione lo stesso caffè macinato sottile o macinato più grossolanamente da dei colori diversi sulla stessa macchina attenzione quindi attenzione anche che caffè chiari vengono visti ancora più chiari mentre perdono scura caffè scuri vengono visti ancora più scuri quindi attenzione c'è un c'è una una deviazione del comportamento ideale anche in funzione del colore del caffè come dicevo prima quello strumento dà una media di chicchi dopo ne parliamo Marino dà una media tra chicchi quindi attenzione sempre allo spread che in questi giorni dovremmo stare ormai non volevo utilizzare questa parola perché è un po' insomma ne abbiamo sentito troppe volte però attenzione allo spread anche in questo caso mio suggerimento prendete 250 grammi di caffè si presuppone che le vostre tostate siano più grandi di 250 grammi ma insomma 50 grammi di caffè del blend originale di come esce dalla macchina vengono separati li tenete là misurate il colore con i 200 grammi rimanenti provate a fare questo esercizio è un po' noioso ma provate a farlo a manina e con i vostri occhi provate a separare circa 50 grammi di chicchi che vedete più chiari e 50 grammi di chicchi che vedete più scuri misurate il colore della parte più scura dei 100 grammi rimanenti della parte più chiara e dopodiché assaggiate il tutto questo vi dà e vi darà una ottima idea di quanto un processo di tostatura con chicchi disomogenei alla fine abbia impatto sul gusto della vostra miscela e gioco un euro che ho qui in tasca che tanto non ho pagato il parcheggio che solitamente è questa la parte che voi preferirete non è questa e voilà torniamo alle nostre regole diciamo così da da seguire misurate i colori di tutti i batch che fate non uno al giorno non uno ogni ora misurate i colori di tutti perché questo vi dà informazioni vi permette di creare un database vi permette di creare poi alla fine conoscenza questo sembra sembra stupido ma quando succede qualcosa tenete nota tenete conto non non lasciate non non perdete le tracce di quello che fate ogni momento altra cosa stupida tutti gli strumenti termocopie eccetera hanno un programma di manutenzione ogni totore bisogna magari verificare le funzionalità delle lampade dell'efficienza fatelo perché se no leggete un numero per un altro l'ultima l'ultima cosa ho provato a confrontare per capire se l'omogeneità di colore tra l'interno e l'esterno del chicco è adeguata provate a macinare il caffè e confrontare il colore del macinato con il colore dei chicchi se vedete una differenza molto elevata cioè se i chicchi esternamente sono molto più scuri del macinato può voler dire che probabilmente il caffè non ha avuto abbastanza tempo per tostarsi anche all'interno per prendere colore basta o veramente abbiamo o io bisogno di caffè quindi le curve tempo-temperatura e il colore sono i sistemi più utilizzati per aver sotto controllo e per tener conto della qualità di ogni singola tostatura e del prodotto che esce quindi bisogna misurare correttamente la temperatura con gli accorgimenti dei tipocanzi il colore anche non dimenticarsi mai che alla fine il caffè si beve né si guarda e non misuriamo la temperatura per cui non dimenticarsi di assaggiare sempre e quindi alla fine però ricordarsi sempre di avere questo strumento sempre acceso e non abbassare mai la guardia io vi ringrazio e vi ho tenuto troppo buon appetito grazie a tutti grazie a tutti